Ben ritrovati con Dica 33, parliamo sempre di salute, lo facciamo con il dottore Emiliano Ghinelli, nostro oculista, buonasera, ben ritrovato dottore, che è responsabile dell'oculistica dell'ospedale civile di Volta Mantovana e anche il suo studio a Villa Franca. Chi vuole scrivere al dottor Ghinelli lo può fare tramite la nostra mail che vedete in sovraimpressione con l'argomento di questo blocco che abbiamo chiamato le mosche volanti, una definizione probabilmente non scientifica, ma credo dottor Ghinelli che sia il termine che i suoi pazienti usano quando vengono da lei per definire questo problema di vista, vedo delle mosche o dei moscerini volanti nell'occhio, di che cosa stiamo parlando dottore? Il termine tecnico è miodesopsie ovviamente, però è logico che nessun paziente si siede davanti a noi e ci dice dottore ho le miodesopsie, certe volte sbagliamo anche noi magari a dirlo se lo diciamo in fretta, però in poche parole miodesopsia significa vedere dei corpi mobili, delle mosche volanti nel proprio campo visivo e allora che cosa succede? Succede che il paziente può fare più attenzione a queste imperfezioni della vista che non all'interezza del campo visivo risultandone disturbato, diciamo così e quindi si rega la nostra attenzione con un fastidio che è un fastidio reale perché il paziente lamenta soprattutto quando si trova davanti un campo visivo fatto di superfici uniformi, quindi non so se guarda un cielo all'inizio della giornata, oppure uno schermo bianco, oppure è in ufficio e guarda la parete dietro al monitor, può vedere queste imperfezioni che tra l'altro si muovono, quindi hanno un moto proprio perché fluttuano libere all'interno della camera bulbare dove è presente il corpo vitreo e queste strutture sono proprio delle imperfezioni del corpo vitreo, quindi degli agglomerati fibrillari che aumentano di volume negli anni, nel tempo, diventano sempre un po' più grandi, tanto da avere una propria massa, un proprio peso e spostarsi all'interno del corpo vitreo, ma questa che hanno un peso è anche una buona notizia perché agglomerandosi e formando delle piccole masserelle che hanno un peso, la forza di gravità quando noi siamo in piedi le porterà nell'arco di anni sempre più verso il basso, lontane dalla nostra zona ottica, dall'asse visivo e quindi anche dal campo visivo, quindi nel tempo si può sempre sperare che queste imperfezioni del campo visivo scompaiano, che queste moschevolanti vadano via. Senta, ma appaiono quando soprattutto c'è una fascia d'età o una situazione particolare? Sì, c'è sia una fascia d'età che una situazione particolare, intanto i pazienti miopi sono più soggetti, perché sono più soggetti? Perché l'occhio miope è un occhio più grande, contiene più vitreo, contenendo più vitreo è più probabile che queste cose si formino in maggior quantità. A parte i difetti visivi, l'altro grosso capitolo è l'età, quindi diciamo in una fascia compresa tra i 30 e i 50 si può apprezzare l'insorgenza dei corpi mobili di moschevolanti all'interno del nostro corpo vitreo. Ecco, allora una volta che noi andiamo dall'oculista a parlare di questo problema, l'oculista che cosa ci può dire, come ci può aiutare? Allora, intanto bisogna essere sicuri che il cambiamento fisiologico riguardi soltanto il vitreo, quindi l'interno del vitreo e non la periferia, dove il vitreo aderisce alla retina. È molto importante quindi la visita oculistica con dilatazione in questi casi per andare a vedere se il corpo vitreo è ancora solidale con la retina, perché se lo è, i corpi mobili vitreali, diciamo, sono solo, si chiama in gergo, un reperto di comune riscontro. Diversamente, se questo non è, quindi se il vitreo si sta lievemente staccando dalla retina e con gli anni lo fa, bisogna stare molto attenti a dire al paziente ma non è niente, non si preoccupi, perché invece il corpo vitreo che si distacca dalla retina, quindi che col tempo lascia spazio tra la retina e la base del vitreo, proprio questo spazio qui certe volte crea dei problemini che l'oculista referta immediatamente, segnala al paziente e si può intervenire con, diciamo, anche discreta probabilità di successo e non sviluppare problemi peggiori. Ecco, lei adesso dice non sviluppare problemi peggiori, perché l'unica soluzione che si ha quando si manifesta questa patologia, chiamiamola così, è quello di non andare a peggiorare le cose, ma non si può risolvere? Allora, i corpi mobili vitreali, quindi le mosche volanti percepite dal paziente, si possono risolvere solo con il tempo, perché avendo una massa la gravità le fa scendere verso il basso e uno non le vede più. Se invece c'è contestualmente anche un iniziale distacco del vitreo che non è un distacco di retina, quindi non è pericoloso, è soltanto come i capelli bianchi un segno del tempo a carico del vitreo, se quindi ricapitolando contestualmente ai corpi mobili vitreali, a queste mosche volanti, sussiste, l'oculista vede che sussiste un iniziale cambiamento nell'attaccamento del vitreo alla retina, se sussiste questa variazione allora bisogna seguirla e il paziente ci può aiutare, per esempio, perché se vede dei lampi, se all'improvviso comincia a vedere un anello, una forma anulare davanti a queste mosche volanti, quello può voler dire che il vitreo si è staccato dalla retina, non è successo niente, non si è rotta la retina, non è successo nulla, semplicemente si è staccato dalla retina come è normale in alcuni casi che il tempo faccia e se è solo questo si deve spiegare al paziente, guardi queste sono delle modifiche dovute all'età che possono succedere, sono successe a lei, non ha causato nessun problema secondario questo, con il tempo anche questa masserellina di vitreo che si è distaccata andrà verso il basso perché acquisirà una massa e un peso specifico e quindi si allontanerà dalla zona ottica e il paziente non la vedrà più, è molto importante spiegare al paziente tutto questo. Quindi la probabilità è quella che come lei dice le cose vadano un po' a sistemarsi con il tempo e che non abbiamo più queste mosche volanti davanti alla nostra vista all'indirizzo dell'occhio principale, ma cadendo in basso non le vediamo più, non ci danno più fastidio? La teoria è esattamente questa, per accelerare la migrazione verso il basso di queste masserelline e poi ci sono alcune strategie, però qui si sfiora il capitolo consigli della nonna, diciamo così, cioè bere tanta acqua, mangiare frutta e verdura di stagione, mangiarla in elevate quantità, prendere degli integratori che fluidifichino poco a poco il corpo vitro in modo che le masserelle anziché trovare un ostacolo vadano giù bene e quindi col vitreo fluido queste massereline vadano verso il basso più velocemente, però in realtà tutto questo non è dosato, sperimentato, misurato, sono dei consigli comportamentali. È come quando si dice di mangiare il mirtillo oppure di avere degli integratori al mirtillo perché fa bene alla vista, vero o non vero? Sicuramente i frutti rossi fanno molto bene perché contengono dei costituenti che noi utilizziamo per la ricostruzione dei fotorecettori della retina che funzionano proprio con una molecola che è l'acido retinoico che subisce delle trasformazioni in seguito all'impatto dei fotoni sulla molecola e ovviamente il fenomeno chimico è sostenuto da alcune molecole, alcune di queste sono contenute nei frutti rossi per esempio, come i mirtilli. Certo, allora senta dottore, la cosa che vogliamo capire è questo, se uno inizia a vedere delle macchie può venire dall'oculista cercare appunto di capire di che cosa si tratta e di arginare il fenomeno o la cosa prosegue? Allora, la cosa prosegue lenta e inesorabile, quindi su questo non si può agire, ma siccome alle mosche volanti può essere associato come dicevo prima il distacco di vitreo, è molto importante che il paziente si reglia la nostra attenzione in modo che noi si possa differenziare se è un invecchiamento del corpo vitreo isolato oppure se il vitreo si sta staccando dalla retina e quindi diciamo tutta una serie di cose al paziente per metterlo in guardia se la sua vista dovesse farle altre scherze. Perché ci sono dei sintomi della vista che sono come dice lei le mosche volanti, piuttosto vedo dei lampi, vedo leggermente appannato, annebbiato eccetera, alle quali solitamente il paziente, cioè noi non diamo così tanta importanza, ci diciamo sì ma passerà, vediamo eccetera. È importante non minimizzare ed è importante non sensazionalizzare, quindi sono importanti entrambe le cose. Certamente con una visita preventiva una volta all'anno certi rischi, certe complicazioni si evitano ampiamente. Certo, bene allora grazie a Dottor Ghinelli che è stato con noi, come sempre è molto chiaro e se qualcuno ha bisogno di Dottor Ghinelli scriva alla mail che vede in sovraimpressione poi noi vi metteremo in contatto, noi ci fermiamo pochi minuti e poi ci ritroviamo a tra poco. Grazie a tutti.